La Lotus è un'azienda che produce cottura orizzontale, cottura professionale per il settore oreca, per il settore cottura professionale. Noi produciamo diverse tipologie di cucine, di attrezzature, di diverse dimensioni. Siamo in grado di spaziare da qualsiasi tipologia di ambiente della ristorazione, dal piccolo snack bar o retrobanco di bar fino alla cucina al centro di cottura, piuttosto che la cucina dell'hotel, piuttosto che una cucina di un resort, la cucina di un ospedale. Riusciamo con le nostre varietà di prodotti, con l'ampia gamma che abbiamo, ad esaudire, a soddisfare diverse esigenze. La Lotus è nata nell'85, è un'azienda indipendente, non facciamo parte di nessun gruppo, non siamo soggetti a nessuna logica di gruppo, a gestione familiare. Mio padre è il fondatore, io sono la seconda generazione, ho delle sorelle che lavorano dentro, è un'azienda familiare. Vogliamo trasmettere questo ambiente, questo rapporto ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori, ma anche ai nostri clienti, perché questa dimensione di azienda ci permette di avere dei vantaggi o delle caratteristiche diverse da altre tipologie di aziende o da gruppi o da aziende di dimensioni anche più grandi. I nostri vantaggi sono, abbiamo una spiccata flessibilità, abbiamo un ottimo rapporto diretto con il cliente, il cliente lo chiamiamo per nome, non è un numero sul fatturato mensile. Riusciamo a trasmettere questa sinergia fra noi e i clienti in modo di ottimizzare anche i tempi delle risposte nel servizio, che questo permette di ridurre anche i tempi di risposta al mercato. Per Oxid l'ho scoperto quasi per caso. Un giorno stavo cercando, era appena finito il lockdown, stavo cercando, l'azienda riapriva, era il fine aprile, stavamo cercando per un cliente una macchina per sanificare ambienti, per alberghi, per ambienti, per ristoranti e quant'altro. Chiamai un amico che è responsabile commerciale di un'azienda che commercializza diversi prodotti pensando che lui magari commercializzandone tanti ne avesse a catalogo. Lo chiamai e mi disse guarda, sì, ancora non le ho, però ti posso, siccome abbiamo un amico in comune, che è Mauro, amministratore delegato di Modulai, mi dice, provo a chiamare Mauro perché lui le sta costruendo queste macchine qui. Ringraziai, chiamai subito Mauro e Mauro mi dice, sì, le stiamo costruendo, però abbiamo un'altra macchina che rispetto a una macchina d'ozono ha delle caratteristiche diverse, migliori, che è una macchina per ossido di idrogeno, cosa che io non sapevo neanche cosa fosse. Sapevo l'idrogeno dagli anni del liceo, però per ossido di idrogeno mi spiegò un po' tutto il funzionamento di questa macchina, quali erano i pro e i contro rispetto a una macchina d'ozono e mi convinsi ad acquistarla anche per la mia azienda perché vedevo l'utilità di poter dare un ambiente sicuro e sanificato in breve tempo all'azienda, ai dipendenti, la mensa, lo spogliatoio piuttosto che gli uffici. Questo trovai in Peroxid una macchina valida per questa cosa qui, per questo mio utilizzo e la comprai subito. Peroxid la trovai comoda perché è una macchina veloce, soprattutto è una macchina pulita, cosa vuol dire? Io la posso usare in breve tempo e dopo non devo preoccuparmi di non poter utilizzare l'ambiente per un periodo di tempo o perché debba arieggiarlo come altre macchine, come altri strumenti. Questa qui, finito l'utilizzo, puoi usufruire immediatamente l'azienda dell'ambiente, non devo stare attento ai computer, non devo stare attento ai bicchieri, non devo stare attento a tutto quello che è sopra il tavolo da lavoro, piuttosto che il tavolo della mensa, piuttosto che lo spogliatoio. Trovata molto utile non solo per il momento del Covid, perché in questo momento è nata l'esigenza, ma ho pensato anche in una prospettiva futura, quando questo brutto momento ce lo saremmo messi alle spalle, periodo invernale, periodo autunnale, periodo quando c'è molta pioggia, nebbia, umidità, creare un ambiente pulito, sano, dove i nostri dipendenti passano la pausa pranzo, piuttosto che il momento del cambio vestiti, specialmente quando d'inverno uno ha un raffreddore, un ambiente chiuso, umido e quant'altro, è più facile che lo prenda qualcun altro. Con questa macchina riesco a depurare l'aria, riesco a dargli una sanificazione e questo ti permette di ridurre questa casistica e dargli un ambiente più sano ai nostri dipendenti.